Il boom dell'inflazione registrato nell'ultimo biennio pari al più 14,5% ha costretto le famiglie venete a spendere in media 3.477 euro in più. Se nel 2021 la spesa annuale ammontava a 23.529 euro, tale dato nel 2023 è salito fino a 27.006 euro. Sono i numeri diffusi dal Centro Studi della CGA di Mestre, secondo i quali l'aumento di spesa mensile negli ultimi due anni è stato in media di 290 euro in più a famiglia. In Veneto i rincari più importanti hanno interessato le bollette di luce e gas, il sistema ricettivo, i trasporti e i prodotti alimentari, in particolar modo zucchero, riso, olio d'oliva, latte a lunga conservazione e burro. Una vera e propria stangata, ma le ricadute negative hanno interessato anche i piccoli negozi di vicinato, che a differenza della grande distribuzione hanno subito la contrazione delle vendite più preoccupante. Se in questi ultimi due anni infatti le vendite della grande distribuzione hanno tenuto, quelle delle botteghe artigiane e dei negozi di vicinato sono cresciute di poco in termini nominali, ma la contrazione in termini reali è stata preoccupante. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, nei centri storici e anche nelle periferie il numero delle insegne rimosse e delle vetrine con le salacinesche abbassate sono in costante aumento. Tornando al caro vita, il peggio per la CGA di Mestre sembra essere per fortuna alle nostre spalle. Nel 2024 infatti l'inflazione dovrebbe rallentare e registrare una crescita media inferiore al 2%, un risultato quest'ultimo in linea con i livelli attesi anche nel resto d'Europa e che dovrebbe indurre la Banca Centrale Europea a diminuire i tassi di interesse. Tuttavia, ammonisce il centro studi di Mestre, rimangono molti dubbi e altrettante incertezze. Le previsioni sul caro vita appena citate infatti potrebbero rivelarsi sottostimate. Nel caso le situazioni di crisi in Medio Oriente e in Ucraina dovessero precipitare ulteriormente, l'aumento dell'inflazione potrebbe attestarsi ben al di sopra del 2% previsto.